In diversi comuni del Vallo di Diano si torna a scuola in presenza domani, così come disposto dal decreto legge numero 44 del primo aprile scorso, valido dal 7 al 30 aprile, in base al quale la didattica in presenza riprende anche per le zone rosse. Sarà comunque un ritorno graduale nelle aule che coinvolgerà la scuola dell'obbligo fino alle prime classi delle primarie di secondo grado. Nel Vallo di Diano il primo comune a confermare l'adesione al decreto nazionale è stato Polla, che con un avviso ha specificato la ripresa in presenza da domani dei servizi educativi per l'infanzia, le scuole primarie di primo grado e le prime classi delle scuole primarie di secondo grado, precisando inoltre che non sarà più facoltà dei sindaci adottare provvedimenti in contrasto con la disciplina nazionale. Un avviso è arrivato anche dal comune di Atena-Lucana. Da domani si legge riprenderanno in presenza le attività educative e didattiche per la scuola dell'infanzia primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado. Il trasporto scolastico riprenderà dal 12 aprile, fanno sapere dal comune di Atena-Lucana, specificando infine che la riapertura della scuola è regolata dal decreto legge numero 44 del primo aprile, che impedisce ai presidenti delle regioni e ai sindaci disposizioni contrarie. Domani tornano in presenza anche gli allunni della materna, delle primarie e delle prime classi delle primarie di secondo grado di Buonabitacolo e di Padula, come confermato dalle rispettive amministrazioni comunali e degli istituti comprensivi di Sala Consilina e di Sassano, come spiegato dalla dirigente scolastica. Circolare anche dall'istituto comprensivo di Teggiano, con la quale si annuncia il rientro a scuola in presenza da domani per l'infanzia, le primarie e le prime classi delle scuole primarie di secondo grado. Restano in DAD le seconde e terze classi delle primarie di secondo grado.